Hanno stravolto il testo con un emendamento, di fatto hanno diciamo annaquato quel testo e sostanzialmente i tanti precari che attendono dopo anni e anni, oltre dieci anni, un percorso per arrivare alle stabilizzazioni vedranno preclusa quella strada perché questo emendamento svilisce la norma che avevamo inizialmente presentato. Voglio ricordare a questa giunta così ferma che sono rapidissimi nell'aumento degli stipendi, 2,7 milioni di euro in più per il management e i dirigenti, crescono enormemente le attese oltre 150 mila prestazioni in lista d'attesa e quando si tratta di favorire la stabilizzazione e l'internalizzazione di tutti quei lavoratori che lavorano con il mondo delle cooperative e quindi con appalti esterni e che spesso sono costretti a lavorare in condizioni davvero critiche, quando si tratta di dare una risposta vera per loro alla fine non ci arriviamo perché questa maggioranza non vuole arrivarci. Noi avevamo presentato una norma chiara su questo aspetto, anche a valle in seguito una sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Lazio che dava ragione alla Regione Lazio rispetto a questa norma, nonostante ci fosse una sentenza chiara della Corte Costituzionale hanno detto no e con un emendamento hanno profondamente stravolto e non arriveranno a cogliere l'obiettivo che volevamo. Anche domani in aula ripresenteremo il testo per fare battaglia fino in fondo.